Il gruppo 5 Stelle in consiglio regionale ha presentato una mozione affinché tutti i consigli comunali dicano no all'Azienda Zero. Il testo nel quale si impegna la giunta regionale a rivedere soprattutto le parti che riducono il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella sanità è stato presentato da Jacopo Berti, Patrizia Bartelle, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabell e sorge dalla totale contrarietà del gruppo al progetto di Azienda Zero che per i pentastellati è una struttura pensata per accentrare i poteri di programmazione e spesa in capo ad un solo soggetto. Ci interessa che ci sia un risparmio importante sull'amministrazione e su un taglio forte e totale dell'apparato burocratico ma che allo stesso tempo questi soldi vengano reinvestiti per i servizi al cittadino. Quindi il riordino delle ASL ci piace e vogliamo che vada nella direzione di un riordino per bacini d'utenza tutelando i cittadini e il servizio sanitario. Ma tutto ciò che riguarda gli accentramenti di potere nelle mani di una sola persona soprattutto quando parliamo di 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, questo no, non ci piace. La mozione oggi inizierà un percorso territoriale sarà portata dai consiglieri comunali nei 140 comuni veneti nei quali i pentastellati sono presentati ma non solo, verrà anche inviata ai sindaci di tutti i comuni della regione. Obiettivo finale del gruppo 5 Stelle in consiglio regionale mostrare che la voce del territorio viene ascoltata e non ignorata. Vogliamo che il territorio abbia finalmente l'ascolto che merita. Tutto il territorio chiede alla politica di fermare questa azienda a zero ed è per quello che noi agiamo da Movimento 5 Stelle ovvero coinvolgendo tutti i cittadini affinché si dica basta a questa riforma che serve solo a dare tutti i poteri di spesa e di programmazione a una sola persona.